Parti con cautela Marlon, via la macchina, chiusura, si infilla per il comando con New York, New York, con a largo Irving di dentro, McGrace, rientra bene McGrace, insiste Irving, arriva Arco, si va a lancio, 12.8, McGrace al comando, parcheggia Irving, arriva Arco, e così come da copione sull'accupolamento della prima curva a fila indiana. 400 iniziali, se ne vanno nell'ordine del 28 e mezzo, ora gradua Roby Andreghetti a piacimento con il suo targato SM, e dalla coda Light e K cerca la rivalita anticipato da Nesta, che poi ci ripensa, ed è la volta di Marlon. 43.3.600, e Marlon O.M. prende la via del largo, parato da New York, New York va a largo di Irving, avalia il cortegamento del mezzo miglio iniziale, mezzo miglio nell'ordine del 59.2.15.9 di frazione, controlla agevolmente del situation McGrace, si forma una seconda fila a largo, si va alla chiusura del chilometro, nell'ordine del 13.9.14.7 di frazione, New York al salti di McGrace, Irving chiuso a largo Marlon, poi il rambo jet, curva a finale, controlla ancora bene il leader, 14.7.1.28.6, tre quarti di miglio, viene via Nesta F, parato da Marlon O.M. allunga McGrace, prende vantaggio l'allievo di Andregretti, scappa via McGrace, ma allarga Nesta F e si prova con Marlon, McGrace in vantaggio, McGrace regge, regge, regge McGrace! Zona traguardo per il secondo sul traguardo Nesta F, appariglia Marlon O.M.